Ma si può sapere cosa stavi inseguendo? Ma non lo so. Ho visto qualcosa di strano. Un animale o un fantasma? Forse un braconiere, ma non sono sicuro. Un braconiere a cavallo? Perché i braconieri non possono andare a cavallo? Ma tu puoi raccontarmi tutto quello che vuoi, ma questa faccenda non mi convince. Andiamo, va? Dai. Senti, Falco. Sì? Si può sapere perché sei scattato come un razzo prima? So, non farmi stare sull'est... Ma no, niente. Mi andava di correre, ecco tutto. Tu hai una straordinaria capacità di far passare per imbecilli tutti quelli che ti vogliono bene. Dovrò chiedere a Giuliana se ha anche lei la stessa sensazione. Bravo, chiedeglielo. Vedrai che ti dice. Vai bello, su. Vai. Su. Guarda che incoscienti. Hanno acceso un fuoco. Pazzi. Andiamo a vedere. Abbiamo visite, ragazzi. Sì.